La ricetta economica su cui il 5 Stelle ha vinto nel mezzogiorno è la generalizzazione delle vecchie pensioni di invalidità. Quando in un paese il sindaco vedeva che un ragazzo non riusciva a vincere il concorso, non era buono nemmeno per essere assunto dall'imprenditore amico, allora chiamava il medico e diceva senti a questo qui facci un 46% di invalidità, poi sale piano piano gli diamo una pensionistica con l'orto della nonna, Campa. E adesso i 5 Stelle cosa hanno detto? Ai giovani del sud hanno detto senza domanda di invalidità vi diamo direttamente la pensionistica.